L'Agnonese dà una spallata alla classifica e lascia il penultimo posto del girone grazie ad una prestazione di coraggio e abnegazione nei secondi 45 minuti. Il Pineto di Maraolo in completo azzurro ha messo in difficoltà e granata con uno schieramento iniziale aggressivo e votato all'attacco. Con l'inserimento di massa, Camplone e Desposito alle spalle dell'unica punta di ruolo, Tomassini. Nonostante l'ottimo palleggio e il costante possesso di palla, sono i padroni di casa che al quarto d'ora sfiorano il vantaggio. Pesic appoggia la sfera sulla corsa di Ancora sul fianco sinistro. In spaccata Formuso non trova la porta. I locali si ripetono su azione analoga alla mezz'ora. Diarra è però in ritardo e l'Olimpia deve accontentarsi solo di un angolo. Il Pineto sale in cattedra al tramonto del primo tempo. Scambio ravvicinato tra Ciarcelluti e Tomassini al limite dei 16 metri. Tiro forte ma fuori misura. Terramani all'assalto al minuto 43. Sponda dietro di Tomassini per massa. Nulla da fare. L'Agnonese intimorita ed insicura e cede il passo al secondo minuto di recupero. Abile cross da fondocampo di Ciarcelluti e Tomassini sale imperioso più alto di Bisceglia per gonfiare la rete di Maraolo. All'intervallo Olimpia 0 Pineto 1. Ripresa i molisani non hanno più nulla da perdere già con un piede in eccellenza. A rialzare la testa ci pensa al quinto un lampo di Diarra. Remo Amadio ci mette una pezza. Dagli sviluppi dell'angolo Bisceglia trova il pareggio a porta sguarnita dopo una prima conclusione di Ribeiro. È la rete che sblocca definitivamente i Granata mentre gli Abruzzesi si afflosciano. I locali mettono la freccia al diciassettesimo. Angolo di Ricciardi. Corbo si fa trovare pronto e incoccia la sfera sul palo interno. Il cuoio rotola lentamente alle spalle di Amadio. Per il vantaggio agnonese ad infiocchettare la partita ci pensa. Ancora al minuto 34. Da calcio piazzato sorprende il portiere ospite con una rasoiata perfetta sul primo palo. I locali non rischieranno più nulla fino al termine. L'ingresso di Cassese nel finale per Formuso dà consistenza al reparto difensivo dove su tutti spicca la prestazione di uno straripante albanese. A 180 minuti dal termine la formazione di Antonio Mecomonaco risorge dalle ceneri e può finalmente tornare a respirare profumo di Serie D.